La pesante vittoria per 3-1 sul campo del Gravina ha dato al Casarano quella piacevole sensazione tipica di chi sa di aver fatto un buon lavoro. Società, staff, tecnico e giocatori stanno toccando con mano i frutti delle loro fatiche, ma tutto va resettato, poiché questa domenica alle 15 al Giuseppe Capozza dovranno venire a capo della prima gara verità della stagione. I Salentini riceveranno il Taranto, una delle vere contendenti alla vittoria finale del campionato. Si tratta solo di una quinta giornata e qualsiasi risultato venisse restituito dal terreno di gioco conterà solo con moderazione sulle sorti delle due squadre. Tutto ciò è vero, ma fare la differenza alla lunga sarà il fattore psicologico che facilmente potrà influenzare l'una e l'altra compagine. Seppur in compagnia del Sorrento, il Casarano è la capolista, con tre punti di vantaggio sul Taranto e tra quattro giorni la tifoseria rossa-azzurra sogna un successo, sogna di poter gridare più sei.